Poletti, gara dura, combattuta, intensa come la prima, stavolta però a sorridere è Salerno. Sì, sapevamo come nella prima partita che avremmo avuto margini di errori ridottissimi perché affrontiamo una grande squadra di grande valore, costruita per arrivare al final four e provare il salto di categoria e purtroppo quando compi una rimonta come quella che abbiamo compiuto oggi e riesci ad ottenere un vantaggio abbastanza importante a casa tua devi essere cinico e devi chiuderla prima perché altrimenti un'avversaria di valore ti castiga. Troppa frenesia forse in certi frangenti? Sì, nelle battute finali assolutamente, frenesia e magari più di qualche episodio da rivedere che hanno fatto secondo me la differenza. A prescindere proprio dai meriti di Salerno nella vittoria finale, analizzando un po' anche la questione arbitrale a ridosso sia del post gara 1 con il comunicato di Salerno e poi anche le decisioni arbitrali immaturate proprio nel corso di gara 2 che hanno un po' penalizzato Chieti. Salerno ha vinto perché se l'è meritato sul campo, su questo voglio essere chiaro, hanno dimostrato di avere carattere, di crederci perché nella bolgia del Palatricalle questa sera peraltro ringrazio i tifosi che sono stati eccezionali, un pubblico che meriterebbe una promozione diretta senza passare per le finali, era difficile appunto poter venire fuori da quella situazione. Quanto meno c'è una coincidenza strana perché chiaramente dopo il comunicato di Salerno nel quale veniva stigmatizzato un episodio che poi con le immagini televisive non fugavano assolutamente i dubbi oggi io ne avrei 10 almeno su cui poter recriminare e non lo faccio per rispetto all'avversario perché credo che Salerno abbia vinto meritatamente sul campo al di là dei preamboli di circostanza per poi magari poter accampare le proprie scuse. Io non accampo scuse, vorrei rivedermi almeno una decina di episodi ma non accampo scuse. Salerno ha vinto meritatamente e mi auguro che le prossime due direzioni arbitrali e perché no anche la terza, come spero, lasciano decidere il risultato alle squadre in campo.